Carissimo zio Max, carissimo zio Massimiliano, io oggi, dopo le tue parole di ieri sera, voglio spezzare una lancia a tuo favore, perché io non posso credere che una persona come te, cioè che un addetto ai lavori, un tesserato, possa fare delle affermazioni del genere. Allora, Massimiliano Allegri ieri ai microfoni, dopo la partita Juventus-Sassuolo, si lascia andare a delle dichiarazioni alquanto signorili, diciamo, ecco, diciamo così, ma io ancora una volta spezzo la lancia a favore di Massimiliano Allegri perché non penso che lo abbia fatto pensando a ladri, guardie, io non penso che lui sia arrivato a tanto, io penso che a lui gli sia venuto in mente questo modo di dire, dopo che gli è stato chiesto il discorso di Marotta, della lepre e quant'altro, punto numero uno, Marotta si riferisce alla lepre e al cacciatore si riferisce ovviamente ai giornalisti, agli addetti stampa, agli addetti ai lavori della stampa, della carta stampata, del web, sicuramente non si riferisce alla Juventus, quindi il cacciatore in quel caso non è la Juventus, è l'Inter, non è la lepre della Juventus, cioè che non deve prendere colpi dal cacciatore che in questo caso è la Juve. Ho fatto una cosa un po' confusa, però spero che si sia capita. Poi Massimiliano fa queste dichiarazioni che ovviamente ha scaturito l'assenso e il dissenso del pubblico, quindi subito dopo Ravezzani, il direttore di Tele Lombardia, non gliele manda a dire e scrive sul Twitter questo. Non è una semplice gaff, caro Massimiliano Allegri, quello che tu hai affermato è una grande caduta di stile, perché non si possono fare certe affermazioni da parte di un allenatore di calcio. Che cosa dice Massimiliano Allegri in questa tanto agognata frase che poi è stata ovviamente interpretata dai tifosi juventini come grande Massimiliano, big, unico, solo, lo hanno ovviamente eretto a re di Torino, e invece da altri ovviamente è stata interpretata come una grande caduta di stile, una cosa imbarazzante. Ora, io vi ribadisco, secondo me non l'ho fatto apposta, perché qualora l'avesse fatto apposta a fare quelle precise illusioni, cioè guardi e ladri, capisci bene che non c'è un'incongruenza, perché in questo caso il mondo si capovolge. Non è possibile che Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, dica che l'Inter sta scappando, quindi il ladro scappa dalla guardia. Chi sarebbe il ladro? L'Inter sarebbe il ladro? E la guardia sarebbe la Juventus? Io, l'unica entità che ho visto scappare quest'anno è stato il CTS della Juventus, sicuramente non l'Inter. Poi se ne possono dire, si può dire di tutto, si può dire di ogni. Io penso e sono fermamente convinta che Massimiliano Allegri non volesse fare riferimento proprio a quella, cioè gli è venuta in mente questa cagata, ecco diciamo così, gli è venuta in mente questa cagata e l'ha detta. Non penso che alludesse all'Inter come ladri o alla Juve come guardia, anche perché sarebbe un pochettino improporibile come cosa. Massimiliano però ti invito a riflettere la prossima volta che parli, perché se no diventa un caso nazionale, è una polemica unica come sempre e le polemiche non ci convengono in questo momento, non ci piacciono e non ci convengono. Ovviamente i tuoi tifosi hanno interpretato come ha interpretato Ravezzani questa tua affermazione, io che non sono tua tifosa voglio non interpretarla così perché altrimenti quello che hai detto è da querela, subito, immediata. E io questo non lo voglio pensare. Ragazzi auguro una buona giornata a tutti voi e ci sentiamo per le prossime notizie.